amici di sportland e soccer fever ben collegati dal centro sportivo carassai ottava giornata della gazzetta football league by ghettori del campionato amatoriale degli italiani il campionato amatoriale per eccellenza la serie a degli amatori buonasera da antonio erario alessandro greco per quanto riguarda l'hover e l'undici azione avvolgente da parte della formazione maglia bianca mancino vincente questa volta del neo acquisto monteverde due di mezzo esterno numero otto sbaglia tutto ne approfitta cinque palmi c'è un po di spazio si fa vedere anche provasi fa tutto da solo lui trezza ci arriva vabbè tutte previsioni inutili che potrebbero magari avverarsi la discesa qui da parte di provasi che batte clamorosamente trezza so sì che c'è poco movimento prova ad alimentare l'azione melosi che cerca il filtrante puntuale e la ballone che finisce in fondo al sacco tre a due per donati un gran bel gol eccoci qua bentornati dal carassai secondi 25 minuti va beh c'è stata subito la conclusione pericolosissima grande riapertura del numero sei c'è lo slalom all'interno dell'area conclusione con la punta più da calcetto che da calcio vero va arrivato il gol del 4 a 2 di donati porta non è semplice infatti mi hai battuto prova di fretta il maestro col mancino ci prova lui che privido qui dei social network budel può cercare un cross che arriva straordinario nell'apertura che è giocata qui dovrebbe calciare lui contro pastore carica il destro cinque palmi tre a quattro seguiamola con la massima attenzione ma cinque palmi ma che gol ha fatto un missile terraria imprendibile per pastore quattro pari seguiamo l'azione di donati poi ci ricolleghiamo da bordo campo con il nostro battarin il palone respito dal portiere l'azione prosegue e arriva il gol e arriva il gol after life il cross centrale ad uscire prova a calciare col destro e seguiamo adesso con grande interesse questo calcio d'angolo con un grande interesse c'è il maestro cross che arriva sul secondo palo il pallone respito può calciare col mancino cambia idea siamo a limite dell'area l'appoggia dentro e arriva un altro gol credo quello di principe maestro utile guadagnando questo calcio d'angolo occhio qui però con miserendino miserendino cosa ha cercato l'azione non è finita budel ad uscire appoggio lavorosissimo ma questo insomma e gra questo è grande calcio inutile che il triplice fischio del direttore di gara si chiude qui l'ottava giornata della gazzetta football league milano cinque pari tra donati e after life una partita bellissima ragazzi andiamo con le interviste post partita parliamo con monteverde stato un esordio molto positivo il tuo hai giocato sui tuoi livelli sei partito da esterno ti sei centrato come è stato questo esordio dal tuo punto di vista ma all'inizio dovevo trovare un po la quadra però fondamentalmente con me avevo dei giocatori esperti che mi hanno saputo guidare e quindi diciamo che me la sono cavata però diciamo che è andata bene credo altro esordiente abbiamo qui principe hai giocato da punto centrale soprattutto in questa partita è dato molto fastidio col tuo pressing anche a te chiedo le impressioni sul torneo no è innanzitutto è un buonissimo torneo abbiamo giocato contro una grande squadra secondo me abbiamo fatto una buona partita adesso siamo tutti al completo quindi siamo pronti a far partire questo torneo tutti insieme adesso aspettiamo la persona partita però le impressioni sono molto positive grazie ragazzi complimenti vi rilascio a linea a presto ciao